Andrea? Altro giro, altro gioco. Che ci abbiamo? Che ci abbiamo qua di bello? Abbiamo un gioco che ha la finalità sempre per i nostri club dei giovani di liberare dei nostri. Nooo! Spettacolo! Quindi facciamo, siamo già all'interno del gioco, selezionamola explore, quindi è una funzionalità per la quale noi possiamo tirare colpi illimitati e andare a scoprire tutti quelli che sono i nostri mostri. Selezioniamo il nostro giocatore. Si può scegliere? Sì, assolutamente. Chi è il batta? Io non so chi scegliere. Tu sei quello verde, questo mi piace. Questo mi spiace. Soprattutto perché hai i capelli marroni e non bianchi come Gandalf. E all'interno di questo mondo noi possiamo tirare colpi da tutte le parti e in base a dove cade la pallina noi liberiamo dei mostri, scopriamo delle nuove funzionalità e giochiamo. Qui abbiamo le distanze. Spettacolare. E possiamo giocare in tutte le direzioni. Ci sono 84 mostri da scoprire. Quindi è uno spara tutto, spara ovunque. Quindi è uno sparamostri. Perfetto, ovviamente che sparo ovunque, quindi partirò io. Attenzione, perché dichiara il bersaglio? No, non lo dichiaro. Lo dirò a caso, sì. Lo scelgo, allora vedi c'è 20, 79, 40, 45. C'è anche il 27 in movimento, ragazzi, del Trackman. Siete stati un po' birichini voi. Sì, bisogna capire in che punto è quando tiri. Ragazzi, c'è il 27 lì in mezzo. Vi farò solo perché siete voi. Adesso lo vedo che si muove. E tiro a caso. Vediamo, ce lo prendo. Non ci credo. Vabbè, ragazzi. Non ci credo. Non ci credo. Guarda, è uscito un granchio. Grande. Il famoso tiro a caso. E l'hai preso, quindi ce l'hai. Ricordiamo una cosa che non l'ho riprovata. Era il primo. Poi dopo voi a casa dite che questo l'ha rifata. No, no, era un colpo solo e via. Vediamo. Tiro, tiro. 45 metri là. Attenzione, la spada si carica. Abbiamo spada laser a 45. Sapevo che dovevo abbandonare il golf. No, è efficiente. Ma sono l'uomo dei versanti. Ti vedo bene in un futuro di intrattenimento giovanile. Grazie, entertainer. Nella Trackman Range. Vi do questa. 79 metri a destra, quindi dovrò tirare quasi nelle linee. E questo c'è nelle linee, ragazzi. Boom. Attenzione. Non è così a destra, eh. No, ragazzi, ho sbagliato. Fantastic shot. Hai crepato. Guardate. Il trackman è stato troppo buono con me. Lo snowbomb. Snowbomb. Vabbè, sono troppo forte. Diamo la Pizzi in mano, questo aggeggio. Oh, quindi. Vediamolo. Vabbè, faccio. Qui, tre mostri sono stati presi. 79 a destra, dov'è allora? Scegli, scegli. 79 metri. Vicino alla cascata. La vedi quella cascata? Sì. No. Ecco, devi virtualizzare e rendere vera la cascata. Così. Vediamo se Pizzi va in cascata. No, secondo me non è così tanto a destra. No, vedi? Eh no, ragazzi. Attenzione. Cosa sei andato lì? Gifted. Oh. Bello questo qui, ragazzi. Brittle Ripper. Brittle Ripper. Attenzione, farò qualcosa di diverso. Tira la porta, guarda. No, 20 metri. Questa porta. Alla porta? Tira la porta a 95. Apri la porta dei mostri. Dai, 95 è la tua misura. Com'è? Sembra dritta? Eh, mica tanto. Vediamo. Vediamo se ci arriva. Trackman è gentile con te. Niente. Ottanta metri. Ma alla porta cosa succede? Qualcosa hai preso, eh? Qualcosa hai preso. Alla porta cosa succede? Dai, facci l'ultimo colpo alla porta. Vediamo. Francesco la porta. Vediamo alla porta. Vediamo cosa succede. Sembra una porta interessante. Vediamo. Sembra alla porta questa. Alla porta, alla porta, alla porta. Boom. Incredible shot. Guarda che si apre la porta. Si cresce il mega mostro. Skeleton King. E hai preso lo skeleton. Che era quello più difficile. E E-Man dov'è? E-Man è andato. Giochi incredibili. Stipendi. Così è fantastico perché per gli junior sono tutte distanze prendibili. Eh sì. Tipo il mio club dei giovani, i ragazzetti fanno 100 metri con drive. E qua la porta era a 95, quindi perfetto. Quindi può giocare il maestro insieme all'allievo. Confermi? Confermi. Grandissimo. Trackman numero uno. Trackman Range, ragazzi. Siamo alle vigne. Spettacolo. Quindi dovete provarlo. Nell'attesa di comunicare al vostro circo di farvelo un Trackman Range. Esatto. Questo è l'obiettivo. Volete praticare, volete imparare il golf? Dovete imparare in maniera scientifica. Perché questo è un gioco, ma dietro il gioco c'è la tecnologia. Per un golf a dir poco? Perfetto e tecnologico. Grande. Trackman Range. Trackman Range.